La stazione Santa Sofia M4 si trova lungo l'omonima via all'altezza dell'incrocio concorso Italia. Via Santa Sofia intercetta sul suo tracciato, oltre ad importanti edifici come la chiesa di Santa Maria Bambina, anche via San Calimero, di grande valore storico e collegamento diretto verso l'omonima basilica paleocristiana. La stazione servirà anche la sede dell'università di via Santa Sofia 9. Il comune ha deciso di realizzare alcuni interventi con l'obiettivo di creare lungo via Santa Sofia un vero e proprio viale pedonale, aumentando il verde e gli spazi dedicati ai pedoni. In particolare il progetto prevede la messa a dimora di nuovi alberi e il ripristino dei precedenti lungo via Santa Sofia, l'ampliamento delle aree a verde all'altezza dell'incrocio concorso Italia, l'ampliamento dei marciapiedi e la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Santa Sofia. Infine è prevista la posa di nuove panchine e portabiciclette. Per scoprire tutto su M4 vai su metroquattromilano.it